E' ripresa a pieno ritmo l'attività agonistica di Biella Corsa e questo fine settimana due equipaggi, un navigatore della scuderia, hanno preso parte all'ottava edizione della Ronde della Val Merula, che si è corsa in Liguria, nell'entroterra di Andorra. Prima gara e prima vittoria di classe ha commentato al termine il team manager di Biella Corsa, Alberto Negri. Giovanni Chisci e Fabrizio Filicicchia, al debut in gara con le insegne della scuderia con la loro piccola Peugeot 106 RC5N, hanno vinto la classe N2 1600, piazzandosi al secondo posto del gruppo e al quarantesimo della classifica assoluta. Tutto è andato bene, ci siamo molto divertiti, ha commentato al termine il pilota, purtroppo quest'anno il budget è molto ristretto e non so quando potremo tornare a correre. È un peccato, aggiunge Negri, perché sono davvero bravissimi, hanno dominato tutte le speciali, meritandosi la vittoria. Ora, aggiunge Negri, stiamo raccogliendo le adesioni per la Ronda del Canavese, che si correrà il 19-20 febbraio a Riverolo Canarese. Saremo un bel gruppo, dato che per la vicinanza per noi questa è quasi una gara di casa. Poi, a febbraio, saremo a Varese, al Rally dei Laghi.